Questa è il problema di queste cose. Sì, i giochi di Rage sono anche molto additivi, se vuoi arrivare a finire il livello. Grazie. mi muoio che parea dai va avanti non riesco a sentare che mi voglio vabbè non 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 si io ho davvero non sentato non ho davvero tanto la chiave bene la chiave non ho davvero tanto 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 la chiave